Maggiore, oggi è stato presentato il calendario dell'arma 2017, un calendario che quest'anno parla di cosa in particolare? Il calendario storico rappresenta ormai una parte di quel patrimonio di tradizioni che l'arma condivide con gli italiani. Nasce nel 1928, allora quando viene pubblicato per la prima volta, fino ai giorni nostri, tranne che per una breve interruzione per gli anni che vanno dal 1945 al 1949, che è il primo periodo post bellico. Siamo arrivati a una tiratura di 1 milione e 300 mila copie, di queste 10 mila in lingua straniera. L'edizione di quest'anno è dedicata ai simboli dell'arma, simboli che possono essere una lucerna, una feluca, un berretto, la striscia rossa sui pantaloni, la bandoliera, simboli che vengono raffigurati ispirandosi all'evoluzione delle arti grafiche che dal 1814 ad oggi hanno caratterizzato la nostra storia. Poi l'obiettivo è sempre quello di confermare ancora una volta la vicinanza tra l'arma e il cittadino. La nostra missione è quella di avere un calendario in ogni casa.